Cari amici, Italia TV vuole proporvi un evento musicale molto particolare che si è svolto il 6 gennaio a Scurcola Marsicana nella Chiesa della Santissima Trinità. Un evento che è stato realizzato da due realtà musicali marsicane, l'Associazione Musicale Italiana Esperion diretta dal maestro Francesco Fina e la Scuola Cantorum Vincenzo De Giorgio che è un coro polifonico diretto dalla maestra Monica Tortora. Tutte e due hanno realizzato una sacra rappresentazione, secondo la tradizione latinoamericana, della nascita di Gesù. A partire dal racconto dell'Annunciazione, i cinque brani si snodano lungo il racconto evangelico che porta fino alla visita dei Re Magi. Dopo questi cinque brani verranno proposti invece i brani che le due realtà musicali hanno fatto singolarmente. La Scuola Cantorum Vincenzo De Giorgio ne ha fatti quattro e l'Associazione Musicale Esperion ne propone tre con un midlay molto interessante. Buon ascolto. Buon ascolto. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.